In un retrato su un mutuo di 90.000 euro. Passiamo alla voce. Anche sottovoce sembra 90.000 euro sono. Ma tu immagina quanto è difficile sognare uno come te? Mi stacco a quello lì. Se la fortuna bussa alla porta. Quando ha vinto? 120 milioni. Sei sicuro che valga la pena aprirla? Sto pensando alla ricevuta. Ma dove l'hai messa? No, perché non qui rischiamo di perdere tutti i nostri soldi. E io il marito? Non ha vinto Gaetano, va bene? Io devo scoprire chi ha giocato la mia sestina vincente. Baciato dalla fortuna, dal 30 settembre al cinema.